Ciao ragazzi, riaprono i viaggi di gruppo. Allora ragazzi, su questa pagina abbiamo organizzato per voi i viaggi di gruppo per i prossimi tre mesi. Scrollando in giù potrete vedere i viaggi di gruppo per la Moldavia, ma anche per Brasov, ma per Brasov Yana più tardi vi spiegherà come fare. Quindi i viaggi di gruppo per Moldavia-Kishinov li avrete su questa pagina per i prossimi tre mesi iniziando ad aprile fino a giugno. Abbiamo cercato di mettere qui tutti i aeroporti disponibili che hanno volo diretto per Kishinov, quindi come vedete qua per i prossimi tre mesi avrete i viaggi da Malpensa per il primo d'aprile, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e così via finendo al 20 di giugno. Quindi dal primo d'aprile fino al 20 di giugno avete tutte le date disponibili. Come fare se volete prenotare un viaggio di gruppo? E' semplice, scegliete la vostra data, se vedete il 26 d'aprile ad esempio che abbiamo disponibilità in clinica, basta cliccare su informazioni dove c'è qui il quadratino con la freccia su informazioni. Cliccatevi, collegate subito a me e Yana che noi saremo a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni necessarie in quanto riguarda il prossimo viaggio di gruppo, come prospetti voli, le persone che partono, quante persone partono, perché appunto si viaggia in gruppo per non viaggiare da soli. Sempre su questa pagina avrete, sì, da tanti aeroporti dell'Italia come Roma Finicino, Roma Ciampino, Bologna, Verona, Venezia, Parma, anche da Catania, Alghero, Napoli, però anche da altri aeroporti dell'Europa, perché sappiate che non abbiamo pazienti solo dall'Italia ma anche dall'Europa, come Dusseldorf, Londra, sempre Londra Luton, Vienna, Frankfurt, Bruxelles, Dublin e quindi basta semplicemente cliccare su informazioni, vi collegate a me e Yana, ovvero al nostro dipartimento, al nostro chat e noi vi diamo lì tutte le informazioni. Allora, come diceva la domenica prima, non riaprono i viaggi di gruppo solo per Chisinau, ma anche per Romania, quindi Bucharest e Brasov, qua sempre troverete tutte le date disponibili e gli aeroporti da dove abbiamo le partenze, sempre per la Romania, non abbiamo i viaggi di gruppo solo dall'Italia ma anche dall'Europa, quindi potrete trovare tutte le date disponibili e vedere anche la disponibilità che abbiamo e comunque per informazioni potete sempre scriverci dove vi ho fatto vedere prima Dumi, così vi collegate direttamente con noi su WhatsApp e noi vi daremo tutte le informazioni di quali avete bisogno e dovete fare prima perché comunque per risparmiare sui biglietti aieri perché si sa prima compri risparmi di più. Inoltre comincia l'estate quindi la gente comincia a viaggiare di più e i biglietti aieri il prezzo cresce. Ma anche una cosa importante anche la disponibilità in clinica, quindi per conclusionare, per fare una conclusione finale e abbiamo cercato appunto di organizzare i viaggi di gruppo per tre mesi in avanti per farti risparmiare perché i prezzi dei voli aumentano con l'arrivo dell'estate, per darti già tutte le disponibilità ma anche per cercare di facilitare il tuo lavoro di non stare lì a cercare le date disponibili col volo diretto per Kishno. Quindi compra ora i biglietti, collegati a noi e noi ti diamo tutte le informazioni necessarie. Ciao! Ciao!